Con l'aumento esponenziale dei contagi ritornano anche i reparti covid negli ospedali pugliesi. La crescita della curva pandemica è costante ormai da settimane e la nostra sanità corre ai ripari. Nei giorni scorsi l'assessore regionale Rocco Palese ha disposto per le Asle, in particolare per Bari, di riaprire i reparti che nella fase più acuta della pandemia erano stati trasformati in covid. Quei reparti in ogni entrati nella ordinarietà e i pazienti positivi al virus, ma aspetti da altre patologie, venivano ricoverati nei reparti specialistici di riferimento, naturalmente in isolamento. Ma ora i covid positivi sono tanti, troppi e torna protagonista anche l'ospedale covid in Fiera del Levante, attivo fino al 31 dicembre. Da un lato stanno andando avanti i procedimenti utili alla dismissione dell'ospedale entro la fine dell'anno, dall'altra parte però è stato disposto che, solo nel caso di saturazione dei posti letto negli ospedali della Asle e del Policlinico, i pazienti covid vengano ricoverati nella struttura d'emergenza, che infatti ne ospita già diversi. L'aumento dei contagi ha portato con sé numerose criticità legate all'assistenza per le altre malattie. I reparti sono intasati e vanno assicurate le cure a tutti. Anche ai pazienti a casa, che fino a giugno potevano contare sulle USCA, unità sanitarie di continuità assistenziale, ora chiuse con una legge statale che impedisce alle regioni di riaprirle, con l'eccezione di Emilia Romagna e Sardegna, che le hanno comunque prorogate fino alla fine dell'anno.